Inizia oggi la nuova stagione di Terrecò, oggi è una bella giornata, inizia l'attività in questa spiaggia pubblica, una delle spiagge più belle che abbiamo, una spiaggia pubblica, gratuita, ovviamente si pagano i servizi, però l'ingresso è gratuito, si può utilizzare, si può stare qui tutto il tempo che si usa per tranzare, che ci saranno, a parte le attività per i bambini che ci saranno? Noi siamo in fermento, perché in realtà l'apertura l'avevamo programmata per il giorno di Pasquetta, poi per i problemi del tempo l'abbiamo rimandata da oggi, quindi da stamattina abbiamo più di 50 associazioni, sia sportive che culturali, che stanno proponendo incontri, performance e attività sportive. Poi abbiamo avuto fino adesso delle mascotte che giravano, attività per la famiglia, per i bambini, delle band itineranti che hanno agli età. Ho visto tutte le band che non sono in casa, ma sarà dall'altra parte di Torre Quezza. E poi questo pomeriggio iniziano tutte le altre attività, dalle 17 in poi, quindi ci avremo dei DJ set, abbiamo Pasquale 33 che verrà suonare qui. E anche ora chiudete con le attività di 27? Le attività oggi, le mie terminano, quelle di Torre Quezza, terminano alle 21 e poi si prosegue con quello che vorrà offrire ogni singolo chiosco. Buongiorno. Buon giorno. Buon giorno. Buona giornata. Grazie. Buono sprizzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Ci sono tutti impersonati dei cantoni animati che adesso sono andati dalla Fogato, che sono Minty, Topolino, Ragnua, Super Mario, Salve, Super Mario Bros. e la banda che li accompagnava e quindi volete sempre riportare i bambini. Da oggi inizia la stagione. Io sono innamorato all'ex polemato. Potevo andare con le mani che corse, si può stare con i pantaloncini, ma non si sta a piedi. Una giornata di confine settimana. C'è piacere che non sono con le mani che fanno il Singap Castello, nel periodo degli altri skilli. E qua ci sono uniti di rendi potevo sulla tergia. anche i loro bei città con i tini. E la fashioned estона,